Una complicanza per fortuna piuttosto rara del lupus eritematoso sistemico è l'ipertensione polmonare. Una complicanza grave che quindi necessita di trattamenti specifici, di una diagnosi precoce, insomma di un approccio particolare molto attento. Noi ne parliamo col professor Claudio Lunardi a capo dell'unità operativa di malattie autoimmuni presso il Policlinico Borgo Roma di Verona. Allora professore come mai si verifica l'ipertensione polmonare in corso di lupus eritematoso sistemico? Beh prima di tutto c'è da dire che nell'ambito dell'ipertensione polmonare il gruppo primo che appunto prende il nome di ipertensione arteriosa polmonare è caratterizzato da una alterazione a carico dei vasi polmonari e generalmente questo può essere legato può essere idiopatico oppure può essere legato ad alterazioni genetiche come nella forma familiare ma alcune forme sono secondarie a malattie autoimmuni come ad esempio la sclerodermia dove è presente più frequentemente ma anche altre malattie autoimmuni come appunto il lupus eritematoso sistemico. Quindi in questo caso parliamo di ipertensione arteriosa polmonare, gruppo primo nella appunto classificazione dell'ipertensione polmonare, quella legata a un rimodellamento del circolo polmonare e quella per le quali sono per fortuna recentemente diventati disponibili una serie di nuovi farmaci che possiamo definire eziopatogenetici in quanto intervengono appunto nel modificare l'andamento della malattia che tengo a precisare una malattia e una complicanza abbastanza grave. Senta professore, prima di arrivare alla terapia vorrei chiedere della diagnosi, quando deve nascere il sospetto nel medico appunto che stia appunto insorgendo, che stia arrivando a un'ipertensione arteriosa polmonare? Beh, diciamo che in generale dal punto di vista clinico le manifestazioni più tipiche sono una certa fatica a respirare, quindi l'insorgenza di una dispnea che insorge e che prima era assente, una dispnea che diventa progressivamente ingravescente. Però prima di arrivare a questo punto già le prove di funzionalità respiratoria per esempio, che vengono fatte abbastanza rutinariamente in pazienti con malattie autoimmuni, oppure anche un ecocardiogramma che è l'esame diciamo di screening che viene fatto per rilevare questa patologia e quindi la misurazione delle sezioni destre e della pressione in arteria polmonare ci permette appunto di avere il dubbio della comparsa di questa grave complicanza. Rimane da dire che il gold standard comunque qualora ci siano tutti i criteri per sospettare la presenza di questa patologia è il cateterismo destro che ci permette di valutare la pressione media in arteria polmonare che appunto deve essere superiore a 25 mm di mercurio. Parliamo poi di appunto una pressione in questo caso di tipo precapillare e quindi di una pressione che appunto permette poi di utilizzare i farmaci di cui parlavamo prima. Esatto, veniamo proprio ai farmaci professore. Quali farmaci utilizzare, con quale schema posologico, quale sequenza soprattutto, visto che adesso per fortuna ce ne sono tanti. Sì, diciamo che ci sono diversi farmaci che possono essere utilizzati e a seconda anche della presenza o meno di una interstiziopatia polmonare e a seconda della gravità del quadro alla diagnosi si può iniziare con una monoterapia oppure con una terapia, come si dice, di combinazione, quindi già dall'inizio una terapia combinata. Chiaramente la prescrizione di questi farmaci, cui accennerò fra poco, richiede un'esperienza particolare proprio per il loro costo e pertanto, per esempio nella regione Veneto, ma penso anche in altre regioni attualmente ci si stia organizzando, l'Emilia Romagna già da molto tempo, ci sono questi gruppi cosiddetti interdisciplinari, come anche qui a Verona, riconosciuto dalla regione Veneto, gruppi interdisciplinari di ipertensione che si occupano di ipertensione polmonare dove diverse figure specialistiche discutono della problematica dei pazienti e discutono appunto la terapia da utilizzare. I farmaci più importanti sono gli inibitori dei recettori dell'endotelina 1 che appunto rivestono un ruolo molto importante nel impedire questo rimodellamento vasale e nel portare ad una vasodilatazione. Gli inibitori della fosfo di esterasi, ricordiamo molti conoscono il sildenafil per altre funzioni e altri utilizzi, diciamo farmaci che hanno un'azione nello stimolare la guanilato ciclasi in forme particolari di ipertensione arteriosa polmonare e ancora e soprattutto nelle fasi più importanti, più gravi, l'utilizzo degli analoghi delle prostacicline, quindi dei prostanoidi che possono essere o in sottocute o per areosol. Sì, professore, la luce appunto della gravità della patologia da una parte dell'armamentario terapeutico che per fortuna è oggi a disposizione del medico, qual è la proniosi di questi malati? Quindi ripeto, chi ha l'ES, ha lupus, ma contemporaneamente sviluppa anche ipertensione arteriosa polmonare? Beh, diciamo che generalmente pazienti con il lupus e con ipertensione arteriosa polmonare tendono a rispondere bene alla terapia e quindi ad avere una proniosi sicuramente di gran lunga migliore rispetto per esempio a pazienti con sclerodermia che presentano ipertensione arteriosa polmonare. Quindi direi che se la diagnosi è precoce e la terapia instaurata adeguata, poi chiaramente ci deve essere il follow up nel tempo, la proniosi è buona in questi pazienti.